Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Oggi vigilia di Natale, giornata di gratuità per il trasporto pubblico capitolino. Per tutto il giorno si potrà viaggiare sull'intera rete senza dover pagare il biglietto. Viaggi gratuiti anche sulla ferrovia Roma Mare, la ex Roma Lido, e sulla tratta urbana della ferrovia Roma Viterbo, entrambe gestite dalla società regionale Codral. Per quel che riguarda gli orari di servizio, bus tram e metropolitane effettueranno l'ultima corsa dai capolinea alle 21. Poi dalle 23.30 scenderanno in strada i bus notturni. Sulla ferrovia Termini 100 Celle l'ultima corsa da Termini sarà alle 21.30, da 100 Celle alle 21.03. Tutti i dettagli sul sito romamobilita.it Sulla ferrovia Termini 100 Celle l'ultima corsa da Termini 100 Celle l'ultima corsa da Termini 100 Celle l'ultima corsa da Termini 100 Celle.